Brutto episodio che tutti quanti abbiamo visto, si tratta di tre persone, ce n'è una quarta alla cui posizione è al vaglio, ma al momento abbiamo denunciato tre persone per lesioni aggravate dall'utilizzo di corpi contundenti, avete visto tutti quanti che avevano in mano oggetti come questi che hanno utilizzato per colpire il migrante e vi dico subito che ho appena firmato